bello raga bentorni di play in questo nuovo video oggi siamo in un nuovo video di troverò non altro player prima di iniziare volevo salutare a giocaccio andrea kevin e raffaele ciao ragazzi questo qui è l'undicesimo episodio vabbè dai raga apriamolo in aprile non c'è un attaccante o tutto il pacchetto un attaccante non c'è in tutto il pacchetto bello avevano le base che sono da maio e silvestri brighi pisacane devra stella che non penso di avere e qua abbiamo un porterone che speriamo che sia silico almeno finisco tutti i portieroni ed è scesli o a che non ce l'aveva che ce l'ho triplone questo pacchetto è andato diciamo molto bene perché comunque trovare due rare scesli che non mi serviva lui che mi serviva perché non ce l'avevo lui che ce l'ho tipo triplone quadruplone però vabbè vabbè se lo volete e niente quindi raga se il video è piaciuto il solito al canale lasciate un like condividete e noi ci vediamo domani alle due con un altro episodio di troverò un altro player ciao ciao